La Guardia di Finanza del gruppo di Olbia ha avviato le indagini per ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di Antonio Usai, 70 anni di Olbia, il cui corpo senza vita è stato trovato stamattina su Lungomari in via Re di Puglia. A notare il cadavere è una donna che transitava nella zona. A raccogliere l'alarma è una pattuglia di finanziari del nucleo cinofili che perlustrava la zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco col supporto della Guardia Costiera. è messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà accertare le esatte cause della morte. L'uomo era solito percorrere quel tratto di Lungomari in bicicletta. Le indagini dovranno accertare le cause del decesso, ma anche quelle che hanno determinato la caduta in acqua del pensionato. Al momento gli inquirenti propendono per una tragica fatalità.